Siamo la Technimed di Varese, l'azienda che ha inventato la misurazione della temperatura corporea a distanza e vi presento Visio Focus, che è l'unico termometro del mondo in grado di proiettare la temperatura. Con Visio Focus è possibile misurare la temperatura e proiettare direttamente sulla superficie, per esempio di una mano, il dito, di una giacca. La temperatura corporea la arriviamo al centro della fronte, con un sistema che è in grado di darmi la distanza corretta. Quindi quando noi vediamo la temperatura, la leggiamo direttamente in mezzo alle due parentesi, la distanza è corretta. Quando è fuori dalle parentesi, il termometro è troppo lontano, fuori dall'altra parte è troppo vicino. Quando la temperatura è in mezzo ai due archi, la distanza è corretta, la temperatura è corretta. Si legge e si mostra la temperatura sul display, retruminato di verde quando lo usiamo per gli oggetti, azzurro quando lo usiamo per la temperatura corporea e viola quando viene usato per mostrare le ultime nuove misurazioni in memoria. Con Visio Focus è possibile anche rilevare la temperatura di oggetti come il biberon, la minestrina, l'acqua e il bagnetto, la temperatura della cameretta. Qualsiasi oggetto o liquido da 1 a 80 gradi, sempre senza contatto e sempre col sistema che vi ho mostrato, troppo vicino e troppo lontano.